vai ci siamo super sbustaggio amici del drugstore quante quante quattro su sei mi sembra togli il nero il drago ha visto togli il nero buono dai siamo essi buoni per fare il fuoco carlo planet di cesena orion fumetti di rimini magic store e kazuma buono dai gg finizio ciao gg hai vinto 7-0 questo questo postalo dopo ne posso aprire una questa calma calma che carta vorresti la papaya mirror jade starlight un po' meno costosa io ho preso un pacchetto ho trovato una cigarette cos'è quella roba lì? anche questa è buona quella però te l'ha già comprata greg che cos'è questa? quanto costa? 7 euro 7,70 è un po' che non avrei perché si vende piano questo è un buon box piano che c'è la starlight che c'è da dietro sta prendendo una di nascosta gg cazzo il curibo galattico questo lo regaliamo a manuel a manuel marianini di ferrara ciao a manuel marianini di ferrara questo lo regaliamo a te io vedo un cashtira lì c'è un cashtira è qua piano c'è la starlight piano come l'ho fatto prima ma perchè ogni cosa che tu vuoi vomito oh 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 qual'è che costa? il power seller marco maravolti quanto costa quella? un po' quanto costa? 15,20 non è 15 euro non è più o meno manca la starlight che non so cosa sia fatta terra senti una trappola continua mamma mia manca la starlight come hai fatto? mamma mia che giocatore che gioca anche il pesce di gosho come ti trovi quel pesce di gosho in mano? fermi fermi le mie tre trovate in un po' queste le aprile è qua mancano anche due ultra sono tutte qua è il po' sballato che dicevo oh c'è l'ultra c'è l'ultra ragazzi investite in l'albrince è vero che lo devo montare investite in l'albrince quindi provate l'albrince sta già smanitando la starlight oh è grossissima è grossissima oddio è un'ultra è carta per l'inverno è per i bambini è qua ti compro sto pacchetto è lì che ti compro è lì che ti compro è lì che ti compro dai lo pago 50 euro oddio oddio dai la 50 dai la 50 50 euro 20 lo prendo 20 lo prendo a 20 la ludopatia è una magia è blu sono dal tonico è me è blu è blu è blu è sussurrato perchè c'è un torneo importante stiamo aprendo 6 box vai lab qui c'è la starlight forse c'è un torneo importantissimo di biliardo all'oasi street food seguite fai un giro di 7 amari dai scrotto i panini sono buoni comprate i panini all'oasi street food esatto molto buono aspetta non così così si fa aspetta abbiamo perso 30 secondi per niente dai dai 30 questo è il box di prima dai lì c'è mirror jane starlight e lo stiamo malmenando dai raga dobbiamo far silenzio dai raga dobbiamo far silenzio dai raga dobbiamo far silenzio dai raga dai raga dobbiamo far silenzio rispetto rispetto per i soldi state rubando 70 euro si raga ma se c'era una foil veramente questo è il mazzo che ti piace a te quando mi viene a lui bello questo diventano 10 euro cos'è? è il mongolano dai sta a fare il trinchio come poco ok questa è una ragione che non interessa nessuno stiamo prendendo troppo tiro no no questa è buona no ma era tipo l'unica che voleva silenzio il lei la deve comprare ha il suo cerco ha pagato 70 euro la castiera in america in america io trovo solo il super pochettino sono Greg Greg e Thomas ma non devi passare vi consigliamo di sentire questo video con gli auricolari Gianlu basta davvero siamo passati a urlare come i matti adesso in silenzio c'è una via di me ragazzi se volete prendo una talent e faccio una crisi è grossa è grossa è grossa dimmi prima il numero dimmi il numero come faceva il mio 1 2 3 1 2 3 dai Gianlu datti una mossa è la penultima sbaglio spesso quando parlo lo capite che non viene lo trovo ci hai messo 10 minuti esatto è l'interno è vero basta parole però ma dove sono le secret seguite il zorro su Instagram è vero è vero è vero è vero è vero è vero dai smetti apri questa c'è la secret lo sento a mano che quella è pesante questo lo sneak era buono ma è la busta più improvvisita dell'umanità non c'è niente ma ragazzi avete visto che hanno messo di fare le rare qua ci sono solo le sigla sono le espansioni più arciolardi le rare le rare ma sono tutte le rare scarse quando c'erano le rare quelle forti quindi era quinta esatto non ci credo è un segno è un segno questo video uscirà dopo lione comunque compro questi pacchetti noi ne portiamo Brandon per questi sei pacchetti offro 50 euro ma basta qua ci sono due sigla qua ci sono due sigla 50 le prendo io 50 le prendo io 50 euro 5 buste sei molesto la seconda la seconda questa cartone mi hai detto che sveglia tanta roba è poi drotta è come se fosse solo la roba mi sta spaccando mi sta un pezzo di me non devi pensare in quelle buste sia l'aurora no oddio quella di mana fortissima è la meno costosa di quella è vero ma guarda come le rigiura come ci sono secret peggiori di questo abominio cosa fa questa cosa c'è uno da 3 euro qui c'è una secret da 3 euro 3 euro e 99 lab spero che la trovi te guarda la musica di villa questa vai no 20 euro salutiamo lo chiamavano villa le tue canzoni sono bellissime le ascoltiamo sempre si il primo è che adesso avremo staicato bassa ma perchè mi hai aperto a te è grosso si potete lasciare girala compro queste buste a 50 euro ci sono due sic una secret e una ultra due una secret e una ultra e una secret oppure fallate c'è la starlight ma è in questo ma manca comunque una ultra è già la seconda volta che l'ultima manca comunque una ultra la quarta manca la secret era così vomitosa che non c'è questa riesce anche starlight ma dov'è la secret ma è qua tranquillo ma come ma la sei continuo il mio rettifico quello che ho detto il mio box era molto buono una foto per la copertina un bel meno oh grazie ragazzi al prossimo box allora ci siamo box numero 3 sempre il nostro mala speriamo di far meglio di prima comunque sicuramente meglio di insidio comunque ho comprato le carte da Jojo Planet stiamo per vendere le mie le mie buste con la marchetta partiamo partiamo tranquillamente con la palta tranquilli quello che vorrà sarebbe tutto brutto è questa quella lì perché c'è si ha fatto la pointer si ci ha fatto la pointer prima di aprirle guarda lì in orizzontale se c'è una che sporgi sono sempre ultra o ultra o secret o super no no super non si vede secret si vede subito anche ultra guarda beh buona quella quanto costa? non lo so io l'ho fatta schifo non calcio non le panna è ultra è il boss però eh è il boss ender sono carte per l'intero lgbt comunque sono carte per l'intero impara qualcosa guardami ammasso guardami ammasso guardami ammasso guardami ammasso guardami ammasso so già che è un meno questo box non è vero anche prima faceva schifo ragazzi ci sarà sempre un meno il box che non aprite voi ma apro io le super non servono niente non è come un tempo che le devi devi le super ora fanno scherzo che se ne freghi via vabbè trovi come si chiama quel coso? eh prendono fuoco prima dai si chiama gold attenzione no no comunque prima quando c'è la magic secret ci credo ci credo eh ma alla fine se la magic secret è buona non è vero no gold pride leon non è vero c'è anche la spell del nuovo gold pride che era una merda attenzione attenzione quanta roba blu c'è c'è un disegno ah la tipa di tinder di mosso la balena no no specifica in che senso una che abbiamo visto non che è un disegno di una balenotta no sembrava la mia è vero signori di youtube stiamo scherzando no il top era il mio il top era i miei teen il top era i miei teen ma non è che quello è che cosa che cosa che cosa che cosa quando abbiamo aperto i teen greg leval nero leval nero io nel dubbio quella la storia va bene è toggi il nero voi non lo volevo dai.. troviamo alla tasnarle dai subito come la przez è grossa adesso però effettivamente ma come l'hai aperto secret secret ophh è pazzesco dai 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 come su c'è la papaia? C'è la cecaa da bene buon allo stesso quanto costa? Una ventina? Bella! No, è piegata! Cioè nel senso... No, è tipo girata! Allora se vuoi... Attacco il diretto e poi la piego di più! Guarda l'immagine! Tipo si fa il sacco! Attacco il piletto! Ah si, io sono un ferro! È bellissima comunque, raga! Qualcuno dovrebbe avere ancora quell'altra! Devo dire qual'è l'altra! C'errebbe una posizione starlight? Mi piacerebbe Mirogedra! Ma cos'è Mirogedra? È quello dei Despia! No, no, no! I... G.H.T. Dovrebbe trovare... Ecco! Aspetta! Ecco! Su! Tu l'hai trovato! Quindi hai ancora una sicurezza! Ma è sicurezza! Ma è sicurezza! Ed eventualmente... No, no! Lì dentro! Vediamo se è grossa? No! No! Non è così! E Pegasus New Allure! C'è anche starlight! È super! Si chiama quella in inglese! È questo che c'è starlight! Waked... Eh no! Waked Bridge! È grossa! L'ho già visto? È grossa! È grossa! Meglio! Non è vero! No, no! Non oltre! Non oltre! Non oltre! Non oltre! Non oltre! Non oltre! Hai già visto uno che apriva e gli sta montando Crystal Beast! Cos'è? La voglia di vincere di qualsiasi! È perché è un troll! Ti avrei picchiato! No! Io voglio tasking! Eh! Andava via sì! Nessuno vuole la tasking! Sono mozza! Sono mozza! Scusate! È 80 bombe! È l'ora della gran merda! È anche per quello che non muore il cap! È vero! C'è anche per quello che non muore il cap! Sì 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 sì! Stavo morendo! Siamo alla seconda! E compro! Ah raga lo monto a sto punto! Eh sì! Devi solo spendere altri 200 euro! Che cazzo è costoso! Se non l'avrebbe mai comprata! Io non dievolo di Lady non la compravi! Una GTA GT 6 box! Una sola di questa! Carpillo! Passamelo su! Lui è andata una sola! No! 3 Brigade! Rivaltamento di terra! Buonissimo! Ma è la busta dove c'è la Saturn Light? Ci sono delle comuni Surprint! Quando arriva la Ultra che è... Qui c'è l'altra Ryzard! Quante Ultra sono box? Quattro? 30! Quattro! Quattro Ultra e due... Negli ultimi 5 pacchetti comunque c'è sempre... Una crema! Se uno ritrova gli... No! È la Ryz! No! Cos'è brutto è Ryz? No! No! È la Ryz! È il traghetto! No! Qualcuno mi disse gentilmente quanto costa! No! È meglio di no! Secondo me è meglio non saperlo! Secondo me è meglio non chiederlo! No! È a Ryz! Secondo me è meglio metterla di Ryz! Era meglio fosse a Ryz! No! Secondo me è meglio metterla nell'album e non chiedere quanto costa! No! La vorrei strappare in diretto! Vai! 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 Ma può essere utile! Inferno! Questa qui era la terza secret che ho trovato! Per il conto! Esatto! Per il conto! Questa era nel mio box da 3 secret! Ah! Allora c'è la starlight! No! 3 secret! Per il posto della terza secret! Pier mi c'è la starlight! Guarda dai! Mamma mia! No! Mi sa che Pier non ha voglia di aprire il problema! La statistica era lentamente a suo favore! Non è vero! Non è vero! Siamo a posto di così! Spiasi! Vabbè fai adesso! Landy! Il campione! Qua ci sono! Qua ci sono due sì! Ah no! Ci ha perso qua? No no! Facciamo in arena! Da Pier la mente caschina! Dai niente! Che almeno quello che fa! La starlight non sta arrivando! Ooooooh! Che plus! Puttana! Mi sa che il rating non era giusto Luca! Sì che me! Sì che un po' zursato! Che schifo! Guarda come dire che non c'è due quelle e zero rituale dogmatica! Che giusto sto box! E' quella la vera short print! Forca madonna! Oh! Youtube ringrazio! Che schifo! Quanto cosa è questa? Ci manca ancora... 80 e 40 se già 120! Ho preso un box di merda! Questa 80? 80 e 40! Bambamia! Siostante il prezzo è in tre order! O solo che sono ieri! Come l'ultima volta! Oh! Che non c'è! Manca due ultra! No ancora no! Dai un bel Rhyzard! Trash! Come trash! Come trash! Cosa è quella? Non è Rhyzard! Guarda che non c'è neanche così! La trappola era Rhyzard! 100 euro! Bello! Grazie! E adesso io lo rispendiamo con la terreno! Grazie Sam! Ah la terreno! Si! Allora o è fallato e qua c'è la Starlight! Ma hai notato Rhyzard! Beh Rhyzard! Ma se ci sono i secret non c'è la Starlight! No no no! Può esserci! Fanno apposta adesso! Mettendo i secret più la Starlight! Così noi non possiamo formarsi proprio i pacchetti! Non potete vedere? Dura! Sapete al! Pera!